buongiorno oggi missione mettiamo a posto tutta casa come state aspettate che vi mostro le sopracciglia appena fatto la skin care sarà mi ha detto di mettere la crema solo nella parte bassa del viso e qui sulla fronte sinceramente dopo che l'ho spalmata sul viso sono andata a tamponare piano piano le sopracciglia le ho lavate solo con acqua passando le dita in questo modo e basta tamponato ovviamente delicatamente e questo è il risultato ad oggi dopo un giorno sono meno irritate sicuramente però ovviamente io avendo la pelle del cavolo dobbiamo aspettare ancora un po per capire come evolverà la situazione anche perché ieri non ve l'ho detto mi sembra dovete considerare che il risultato che vedete su di me è molto falsato io avendo una pelle non idonea al micro blading non verrà mai un risultato perfetto come quelli che vedete su chi ha la pelle adatta perché chi ha la pelle adatta nel corso del tempo rimane con questo disegno perfetto mentre a me per esempio nello scorso micro blading i peli un po si allargarono oggi volevo la certosa con l'affettato mi sono svegliata proprio con questa voglia e quindi vorrei soddisfarla vorrei creare dei roll con l'arrosto di tacchino vediamo se vengono ti ho già dato i croccantini basta vado a pesare il mio arrosto adesso la missione di questi giorni è diventata trovare il formaggio di fossa la certosa che avanza ovvero questa più quella ancora chiusa che diventeranno precisamente due porzioni per me per christian le andrò ad usare nella parmigiana di melanzane mi sa che voi non l'avete vista perché l'ho preparata in live e ce la siamo mangiata in live quindi nel vlog non c'è proprio arrivata mi è venuto in mente adesso ho provato a fare la parmigianina light di melanzane con la certosa invece che con la mozzarella l'ho preferita perché perde meno acqua e in più non rischiate di strozzarvi ci direi che poteva venire molto peggio questo è il risultato finale ecco i nostri uramaki a base di tacchino e certosa buona colazione ovviamente ce n'è un pezzetto anche per le piccoline c'è odri poggiata sul mio piedino che cerca di farmi tenerezza quindi appena finisco di bere l'integratore andrò di là e lo porterò sia a lei che a tiffany ed ora il momento più rilassante di tutti ovvero il momento integratore quindicesimo giorno in chetogenica in realtà poi è 16 perché io considero anche il 9 come giorno in cheto buon inizio giornata e buon inizio weekend vi volevo mostrare odri come corre felice quando c'è qualcosa e capisce che è arrivato il momento di prendere la pappina vai odri la pappa la pappa corri che carina eccola anche titti era sveglia davvero eccoci qui giù seduta brava che brave bimbe la piega i capelli rimane anche oggi li ho pettinati anche ieri sera ovviamente prima di andare a dormire guardate qui che boccolini che ho mi metto qui alla luce naturale per farvi vedere ancora meglio le sopracciglia visto che il fulcro di questi dieci giorni ve le mostro il più possibile in modo da avere quante più clip da mostrarvi stavo pensando ma non è che ieri la pelle mi sia irritata particolarmente perché ho usato la maschera viso jelly lift perché effettivamente ho cambiato la mia skin care routine solo con quel passaggio perché come vedete oggi non ho mai la pelle dei sogni però non ho neanche la pelle arrossata come ieri madei madei qui c'è una piantina che urge di essere annaffiata andiamo subito a farlo non so se mettermi prima a stirare e fare quello che ho detto oppure prima ad editare perché poi se mi metto ad editare mi fermo e chi si ferma è perduto si sa ora la lascio nel lavandino in modo che scolli per bene poi una volta che non cola più acqua la rimetto nel vaso e la riporto in camera pensiamo devo stirare due camice questa felpa beh effettivamente da stirare poca roba iniziamo con questo così poi devo farmi la ripresa al fisico quella è la mia postazione per mostrare il fisico alla telecamera con gli aggiornamenti all'ultima visita quindi passati altri sette giorni non l'ho fatto e dovrei farlo assolutamente oggi quello è il toppino incriminato ma vediamo quanto pesa sono curiosa lo metto sulla bilancia vediamo se pesa qualcosa ora mi è venuta la curiosità allora pesa voglio dire abbiamo svelato l'arcano libero tutto dalla tavola da stiro mi dovrei mettere già la guainetta sia per la pancia sia per le gambe in modo che intanto lavorino mentre io faccio cose c'è tiffany che abbaia andiamola a far scendere ecco mammina ecco eccola qui la patatina di casa quando inizio a stirare sistemo tutto vi parlo di questo ferro da stiro che è il philips perfect care acqua pro è eccezionale se volete stirare senza nessuna fatica questo fa il caso vostro per prima cosa vado a riempire il serbatoio come vedete c'è il minimo al massimo ho già aperto l'acqua distillata non con pochi problemi volevo mostrarvi come stiro le camicie perché secondo me potrebbe essere un argomento utile a molti allora parto dal colletto faccio una premessa non sono una maga nello stirare vi mostro semplicemente come mi son trovata meglio facendo esperienza utilizzo la parte curva della tavola da stiro per andare a mettere la spalla parto dal basso inizio a fare tutti i bottoni e faccio l'angolo della spalla seguendo tutte le cuciture dalla spalla passo alla schiena seguendo sempre le curve della tavola da stiro come vedete la cucitura aderisce perfettamente che belle queste camicie gliel'ho fatte prendere io a christian stupende qui c'è la grinza quindi vado a stirare solo il laterale e poi continuo con l'altra metà di schiena come vedete in questo modo stirare la camicia è facilissimo perché si adatta perfettamente alla tavola da stiro e non c'è bisogno di far nulla sostanzialmente poi vabbè questo ferro è micidiale vi toglie le pieghe su tutto è veramente fantastico la cosa bella è che poi lo potete tenere poggiato sulla tavola da stiro e non brucia e non dovete selezionare il tessuto che state andando a stirare si adatta anche sui capi più delicati sembra una marchetta non lo è è semplicemente un prodotto con cui mi trovo molto bene così come la macchina del caffè per quanto riguarda le maniche non ho ancora ben capito il metodo migliore allora io le sistemo in questo modo e le metto con i bottoni che guardano all'insù poi vado a stendere per bene la manica come vedete in modo da non fare grinze altrimenti se ci andiamo a passare sopra il ferro da stiro poi esce fuori la grinza e vado a stirare per quanto riguarda queste pieghe che hanno queste simpatiche camice vado un po ad intuito cerco di non toglierle però faccio quel che riesco così faccio con l'altra manica e il gioco è fatto queste sono le lenzuola che ho piegato con christian l'altro giorno da quello che ho capito mamma le stira direttamente così da piegate io invece le aprivo ancora e usavo uno stendino per aiutarmi come vedete questo ferro spaziale però adesso voglio capire come faccio a stirare bene tutte queste pieghe le vado a sistemare io un attimo a mano non verranno proprio perfette però e continuo così lungo tutto il lenzuolo poi lo gireremo e vedremo se la parte dietro ha bisogno di un'altra battuta oppure no diciamo che questo è un metodo più sbrigativo giustamente più intelligente altrimenti dovete stare ad impazzire appresso alle lenzuola che poi cambiandole ogni settimana fatevi conti di quanto vi ritroverete a stirare lenzuola nella vita vero è che se non volete nessuna piega nel letto dovete stare lì ad impazzire sinceramente preferisco qualche piega in più nel letto ma risparmiare tanto tanto tempo oltretutto non vedo l'ora di farmi il cappuccino che ancora non l'ho bevuto sono le dieci e mezza andando a passare il ferro anche da questo lato mi assicuro che la parte di lenzuolo che sta in mezzo venga bene su tutta la superficie del letto ecco qui le nostre lenzuola piegate ora le vado a piegare di nuovo ecco qua guardate qui nessuna piega sono le 11 e 20 ho appena finito di stirare tutto questo stendino è vuoto c'è solo il maioncino di cristian che stava ancora asciugando però già l'avevo stirato era rimasta bagnata giusto la parte sotto ma questo ieri o l'altro ieri quindi adesso è pronto mi sono tolta anche tutte le lenzuola anche quelle che avevo piegato e riposto sul tavolo facendo finta che non esistessero oggi mi sono decise le ho stirate adesso devo mettere in ordine tutto ma aspetto un attimo prima mi volevo fare un bel cappuccino poi tolgo di mezzo gli stendini la tavola da stiro il ferro aspetto ovviamente che si freddi inizio a spazzare per terra così poi faccio questa parte con la lava aspira di tineco mio grande amore e poi vado dall'altra parte o magari l'altra parte me la tengo per domani adesso vediamo cappuccino pronto guardate che capolavoro vi ho fatto bellissimo oggi è venuto perfetto ho letto per puro caso che domani viene a roma clio la domanda è ci andiamo non ci andiamo teoricamente potremmo fare un salto anche perché lì vicino ci dovrebbe essere lo store di vera lab visto che mi volevo comprare belli booster elasticity potrei cogliere la palla al balzo per fare entrambe le cose che dite secondo voi ci sono andata oppure no conoscendomi non ci andrò mai perché mi vergogno non so se voi siete come me però quando si tratta di andare ad incontrare personaggi pubblici mi viene l'angoscia a proposito domani dovremo andare anche al mercato trionfale quindi non so come conciliare le cose intanto vi mostro quello che ho fatto ho liberato tutta questa parte ho spazzato infatti come vedete c'è ancora il secchio ho svuotato il camino perché era rimasta ancora la cenere di quando abbiamo acceso il fuoco adesso vado a spolverare questo mobile che fortunatamente ho liberato quindi ci sono solo pochi pezzi da togliere almeno poi passo lo swiffer ed è tornato pulito la cucina la lascio per dopo perché al momento preferivo fare questo così nel mentre preparo la pappa alle piccole finisco di spolverare il mobile do la pappa alle piccole e nel frattempo lavo per terra così da ottimizzare al meglio i tempi ho pulito il mobile eccolo qui adesso è splendente dopo accenderemo insieme il profumatore per ambiente adesso sto per andare a passare l'aspirapolvere volevo vedere che ore erano così capisco quanto ci metto a passarla sono le 13 e 11 vediamo a che ora finisco finito di lavare tutto sono le 13 e 24 e considerate che io sono maniaca e ripasso 70 volte perché quando vedo dei micro puntini sto lì che insisto e soprattutto mi rilasso a passarla quindi a volte perdo anche più tempo del necessario che benessere lasciamo stare la penisola e la cucina che sono ancora da sistemare ho riportato le piante io ho cambiato la disposizione in base alle altezze da coprire poi voglio spostare la pianta quella solita che conoscete tutti qui almeno da riempire questa parete e quella cesta la vorrei sostituire con un bel puff in modo che sia anche più bello da vedere e qui davanti vorrei comprare una bella poltroncina magari in vellutino colorata non lo so dobbiamo vedere devo mettermi un attimo alla ricerca anzi se avete delle idee scrivetemele giù nei commenti questa è la roba da lavare qui c'è la pianta che si sta riprendendo ho sciacquato la mia tazza perché adesso mi andrò a fare un cappuccino ed intanto ho liberato la macchina del gas perché poi la dovrò lavare poi dovrò liberare tutto il piano lo pulirò con lo sgrassatore spolvererò tutte le spezie e poi rimetterò tutto a posto dai che abbiamo quasi finito quest'area a proposito vi volevo far sentire quanto è rilassante questo l'ho preso da coin della millefiori ora vi metto il microfono vicino così vi rilassate direi che mi son meritata il secondo cappuccino della giornata lo devo fare anche un po' meno di 75 perché oggi ho abbondato un'altra volta però di poco stavolta poi devo lavare tutte le ciotole delle piccole così faccio il cambio d'acqua generale in tutte le stanze vorrei riuscire a lavare anche l'altro salone diciamo che ancora un'oretta e mezza disponibile prima di dover andare dal veterinario perché alle 4 abbiamo appuntamento con l'oculista incrociamo le dita per tittatina e quindi devo essere assolutamente pronta almeno per le tre e mezza inoltre devo riuscire anche a preparare il pranzo a christian così appena torna mangia e partiamo una parte di cucina è stata fatta mi manca il lavandino che è vuoto ho lavato tutto volevo svuotare anche questo però sono le 3 08 devo assolutamente preparare il pranzo perché come vi dicevo prima alle 4 dobbiamo uscire eccomi qui mi sono vestita al volo sono le 15 e 31 christian ancora non è arrivato noi massimo a meno un quarto dobbiamo uscire ho preparato il pranzo fiocchi di latte e cetrioli fortunatamente mi erano rimasti due cetrioli quindi li ho tagliati e usato i fiocchi di latte per fare un pasto veloce a christian ho già sbriciolato le fette biscottate perché so che a lui piacciono così buonasera siamo rientrati a casa sono le 19 e 55 mi faccio rivedere adesso perché siamo stati al controllo per tiffany e poi mi sono messa ad editare il video che è andato online mezz'ora fa mi mancava parecchio da editare in più dovevo ancora fare la miniatura quindi ne ho approfittato altrimenti anche oggi sarebbe uscito in ritardo e non mi andava ho preparato le zucchine tonde le assaggeremo per la prima volta oggi non le ho fatte ripiene non mi ricordo se ve l'avevo detto perché abbiamo già mangiato carne rossa due giorni in questa settimana quindi di mangiarle con del macinato rosso non mi andava le farò grigliate però non vi preoccupate che le ricomprerò perché ci tengo a farle anche ripiene faremo sia queste ripiene sia successivamente quelle classiche a me quelle classiche ripiene piacciono molto però magari anche queste avranno il loro perché non lo so vi saprò dire una volta assaggiate perché non ho idea di cosa aspettarmi sinceramente le piccole hanno già accenato per quanto riguarda tiffany dipende dalla les maniosi il problema all'occhietto però a quanto pare è stato preso in tempo quindi ci ha dato una cura da fare la faremo e fra 15 giorni dobbiamo vedere come sta l'occhietto se starà bene dobbiamo tenerla sotto controllo ed eventualmente dovesse riappannarsi un po all'occhio sappiamo cosa fare fortunatamente le analisi del sangue sono risultate stabili identiche a quelle fatte a settembre 2022 quindi penso sia una bella notizia siamo felicissimi ora griglio le zucchine che mi ci vorrà un bel po direi perché sono tante sono uscite fuori quattro porzioni fantastico così ce le abbiamo anche per domani e mi sono resa conto che in frigo ho altre due melanzane quindi a voglia porzioni perché le melanzane soprattutto ce le ho pesate domani mattina abbiamo intenzione di andare al mercato ma vi dirò tutto meglio dopo che state aspettando vediamo un po il polesso buono wow ma queste bimbe sono proprio fortunate rimadiano ogni sera ho cotto tutte le zucchine stavo pensando di cuocere solo la porzione per questa sera intanto cenare e poi fare le altre però me le sono tolte almeno non ci penso più appena si raffreddano copro con il tupperware e metto in frigo cenetta pronta oggi cena con jazz in sottofondo abbiamo le zucchine grigliate e il petto di pollo sempre fatto in padella con un po di sale e peperoncino il tutto condito con olio di cocco buona cena e vai dopo tanto tempo sarò io a prendermi la bustina di unicomplex perché ultimamente me la stava sempre prendendo christian e non avevo più la soddisfazione di togliere la bustina dalla scatola stavo pensando che avevo voglia di un altro cappuccino ma devo resistere infatti mi sono presa l'unicomplex apposta e domani vorrei comprarmi anche una tisana perché altrimenti la sera se ho voglia di qualcosa da bere non ho nulla queste sono le sopracciglia oggi ve le mostro anche con la luce bella sparata non ci ho messo nulla sopra questa sera ci siamo superati penisola pulita e tutta la cucina anche l'unico superstite è lui ovvero il contenitore dove facciamo fuoriuscire il vapore rimasto dopo aver fatto il cappuccino perché come vi accennavo forse me ne preparo un altro direi proprio che stasera ne ho voglia dopo tutta questa giornata dedicata alle pulizie me lo sono anche meritata eccoci qui per le conclusioni della serata alla fine mi sono preparata il cappuccino ma sta sulla scrivania per questo non ce l'ho in mano è troppo bollente devo aspettare che si freddi come è andata oggi benissimo anche perché ho fatto tutti gli spuntini e devo dire che l'ho sentito cambia davvero tanto la questione arrivata sera le zucchine tonde eccezionali da fare grigliate veramente rispetto alle romanesche che generalmente taglio per lungo queste qui sono anche più carine da presentare quindi straconsigliate di energie ne ho avute tantissime infatti non mi sono fermata neanche adesso ho ripulito di nuovo tutta la cucina però forse perché mi faceva piacere vedere tutto sistemato e finalmente domani mi alzerò trovando tutta quell'area di casa perfetta per questo video è tutto spero vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi daily vlog che usciranno come sempre vi mando un bacione noi ci vediamo domani con un nuovo daily vlog ciao